ciao a tutti amici sono Erika e benvenuti in questo mio nuovo video su nintendo spicchetto della versione golden retriever questo è un piccolo video dove vi faccio vedere soltanto i comandi speciali di peter dell'ultimo cucciolo appena acquistato scusate se tremo però sto tenendo con la mano e non sono abituata a filmare il telefono in mano per un sacco di tempo chiedo ancora scusa seduto seduto Padua, 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 Padua Bingo se riesco ultimi comandi sempre speciali Pav Padua Bingo guarda fantastico e niente, spero che questo mini video vi sia piaciuto ve l'ho detto che fosse così poco corto perché l'ultimo video che caricai con il telefono di nintendo spiket il video ci ha messo veramente un sacco di tempo a caricarlo e quindi non voglio portarvi un video di 10 minuti e poi non ha senso portare un video così grosso sui comandi speciali di peter comunque spero che questo piccolo video vi sia piaciuto se si lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video ciao a tutti amici